Ciao a tutti, questa è la dodicesima parte della mia guida a Pokémon Nero. Qua vicino a me c'è un altro ospite, che è? Ciao. Che è Ciao? No, realmente sarei Zazeria 1. Ma chiamatemi Ciao, ciao. Ok, bene. Adesso otteniamo un petrofocale da questo scienziato che mi ha dimenticato in parte precedente. La vede lì. E bene bene bene, perché... Allora, adesso non voglio far evolvere direttamente il mio mansear, perché è diretto ancora un po' presto. Più o meno quando sarà da battere il capo palestra. Carolo, il nome è sulla punta della lingua. Ah, accidenti. Il casino texano. Sì, ecco. E adesso, entrando qua, ci sorprenderà Comor. Perché mi piace? Eh, adesso. Sì, non è stato facile, bravo, 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 bravissimo, sei bravissimo. Lo sei chiamato, bravo. Ah, sarà. Eh, questo è il mio certe, mi dice quel capo palestra, però non vuole batterci perché... E' un bambè, è un calzamaglia. Oh, allora... Non si sa, è una calzamaglia. Perché adesso dobbiamo andare a cercare il team patata. Non è mai più bravo. Sì, lo so, è nel modo più giusto. Doveva essere questo. Lo so, ho già fatto questo pezzo, solo che poi mi si impallato l'emulatore e ho dovuto rifarla a parte. Ah, grazie. Eh, questa qui è il scherzo, insomma, no, non si sapeva neanche come vuole. Fare la ola? Vuole fare la ola che può anche, soprattutto se è tanto e poco, ma che può anche tu. Sì. Mi ha fottuto Zekron con fare la ola di Mincino. No, Zinzino, Mincino non fa fare la ola. Chi se ne frega, gli amati? Spazza sberla. Spezza sberla? Spazza. Spazza sberla. Boh, comunque il rifuso dei mascalzoni. Hai già preso e mi metti i flash? C'è, c'è. Ok. Beh, devo averla presa perché altrimenti come pensi che io abbia fatto a passare per il giro? Vuole anche far giro il contrario nello spazio davanti. Boh, comunque il rifuso dei manicoli è qua. Non c'è dubbio, ecco. Vuoi tre babbei davanti? Vuole che... No, io direi che no. Fammi entrare se lo tido giù. Uffa, non mi spaventare. Non ci resta a portare se devo lottare. Ok, allora. Dobbiamo lottare. Che poco non hai? Che poco non hai in testa? Ah, ho di alga. A livello 100. Che sa cuore stampo. Sì. Sì. Contro un fancier contro un... Salgo. Lì fa ma... Esce Salgo. Ok. Sì, sei spagarugia. Ora sì, ragazzi. Spagarugia. Se non vedi le mie parti non sai che succederà. E ora garantiamo il culo. Avremo? Movediamo il culo e... Viene da la... Che fa bene? No, io continuo. Ah, ma c'è quello che voglio. Non mi si usare di capire la lancia. Capire la lancia? Non si capire? Provo a usare a impiere la lancia? No. Non si. Prova. Hai usato corso? Eh, 24, grandioso. È solito il livello 24, ragazzi. Però sei altino. Sì. È il mio vicino di casa. Sì. Sai che è il mio vicino di casa? Anche il tuo. No, ma sai che è il mio vicino di casa? Ah, benissimo. Sbagliato. Vabbè. Arceus. Eh, arceus, guarda. Sì, io ho indrestato anche tutte le mie lastre. In realtà il mio vicino di casa è Giovanni Costantini. Non è così. In realtà il mio vicino di casa non è nessuno. No, è solo un povero vecchetto. Povero vecchetto? Sì, sai chi? Sì, anche io lo conosco. Otsi, otsi. Beh, il mio vicino di casa. Adesso qua, Rosco. Non conosco quel vecchietto. È il mio nonno. Ah, questo qui è il mio vicino. È il mio nonno. È che è Cis? È il mio nonno. Ah, che figato che è. Peccato che alla fine lo ammazza. Poi va in prigione con occhio bello. Ma non è occhio malato. No. Occhio viola? Quello di Pokémon Ranger. Occhio rosso? Occhio blu? Quello di Pokémon Ranger. Occhio arcobaleno. Occhio buo. Sì, una zebra. Occhio poise. Occhio. Oh, grazie. No, non li devi ringraziare. Belle. Perché sei brutta. Sì, è vero. Ha detto sì, è vero. È una sfida. Ma inizia che di Pokémon non sia mai una ragazza. Non sembra giusto. Eh, Petalburg. Sarebbe essere una punta. Certo. E ci ha risposto. Certo. Benissimo. Allora, adesso possiamo... Certo. E ci da Bacamoya. 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 Come in Maya. Moja. Bacamoya. E adesso andiamo a prenderci sta pallafumo. Perché ti chiami Ash? Ashish. Dei chiamarti... Potevo chiamarmi Ashish. Potevo chiamarmi Ashish. Allora, ragazzi, ci rincontreremo qua, sotto questa specie di albero rosso. Nel frattempo vado a curarmi la squadra. Eccoci. Ecco, ragazzi, sono tornato qua. Bene. Uh, che corsa. Allora, bene. Adesso la nostra squadra è super ipercarica. Ed eccola, potete annotarlo anche voi. Adesso mettiamo Wubak perché Whirli Pede. Non mi sarà di nessuna di Wirli Pede. È un bel linguaggio. Ok, bene. E ci dà un'acqua bagnata. Perché l'acqua è umida. No, l'acqua bagnata. È utile. Non sempre l'acqua bagnata. Non sempre l'acqua è umida. Adesso dobbiamo prenderla in corso. Dobbiamo attraversarla meglio. Ah, non me la raccomando. Ok, bene. Non è merda. È merda. È merda. È merda? E batterti quel bambino. Buffone. È un buffone. Buffone? Non lo so. Wubak sa in polisain. Adesso lutto. Nelle mie parti non si lutta. Volevi offendere i nostri istitutori. Certo. Scherzavo. Scherzavo, ragazzi. Scherzavo. Perché scherzavo in altri modi. Scherzavo. No. No, scherzavo, ragazzi. Non mi dobbiamo perdere. Mi sento felice. U. 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 Penel è punto. U. 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 A. B.C. SIA. B.C. D. 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 sono cinese dico siulo no se sei un cinese vuol dire ok ok e abbiamo curato il nostro povero unirecuro è un curato al nostro perché lo tengo come tutto fare come il mio tutto fare che in realtà è un dragonite verde che lo tengo in oro gli insegnato mostro dell'ufero l'interruttore segreto ben l'icita Il bug è forte, non farà il buono, ora sembra un po' poco buono Questa sia si bella, basta avere le reti Questo zappello è l'azio, l'azio è l'azio Figa, un po' il cammolo rosso, c'è un leo però Vabbè oh, è normale Vestia Cos'è figo? Oh, chert Tattada, tattada Chert Vabbè oh No Infone Chert Una balbusa Adesso andiamo a prendere questo Certo Ho avuto il zeklo ma Esce Sposto sbagliato No, perchè il fogo dovrebbe avere un'applicanza elettrica Certo Certo Vabbè Dove stai andando? Vabbè 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 Non ascoltato il pazzino Vabbè E comunque Vabbè Io mi ricordo C'è un fatto cinto volte la legge Vabbè 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 bravo che era sciocco ah è bravo tu sei cagato mi cago sull'acqua lasciamo perdere la cacca che mi stasera che ho giusto clic lo sapete dover guardare la cacca e il wakamagana va a fumble no aiota c'è assinno ci abita lusiana ecco c'è un tizio nascosto lì non si vede mai grazie ragazza poi a aioto sono le 11 di sera non vorresti fare accanto aioto c'è poi vedo che a poi come si dice no ho sbagliato destia no oh e ci abita il mio fratello no oh e mi ma ci abita la mia professoressa di pokemon no e accanto no no non mi viene neanche a sto lì perché hai detto qualcosa simpatica allora se tu sei già di tecnia sono da ma non guardi mai mille crack in Italia no è finito adesso come al solito andrò a curare la mia squadra fuori dalla parte perciò appuntamento qua su questo bottone del piffero davanti alla scala del eh proprio l'essere del piffero ed ecco riassumiamoci qua e adesso possiamo continuare so che finirà male questa volta ok e chi ha detto che facciamo una volta e si io mi fermo qui e salvo e scrivi salve ok oggi è 13 novembre una volta due giorni fa era l'undici dell'undici 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 bene ciao a tutti no dai continuiamo la parte ma so che finirà male boh ma sono solo dodici trecenti ecco sta che pensa a salire per il caso guarda che ne ho fatta una di dici e sette volte tanto se andrà male farò la prossima parte qui ripieni questa qui tipo se andrà male è solo per conoscere il nemico certo oh finirà male solo perchè ha detto il culo che interruttore strano no no dicevo ah mi ha detto che interruttore strano amnesì non li ha faccio no le modifiche di oh è quello che vuol due no è rozza potresti potrebbe porti sassare e mandi uno volante si è vero fossa non importa ragazzi tanto se perdo non è erano non è una mostra sì uuuu buono si è stato lì la fanno tente mare uuuu 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 nooo ho detto che quindi era male adesso si correrà manda si guarda che è supervivenza uuuu 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 usare i mosti speciali perchè è una rozza i rozzano sempre tanto di uuuu 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 e cicali cicali calica e batteremo belle brutta batteremo brutta e mi da entomo blocco che non mi ha mai usato in questa lotta che strano ecco batteremo l'omor l'omor è il più bello di ma sto uscendo da sto paletto no perché poi vanno a curare la squadra e sbaglio sono sempre nei tuoi video e questa sera belle no brutta 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 che ci dirà che vuole sfidarci perché è diventata ancora più scarsa e adesso salvataggiamo ambi conosciamo e adesso ciao sì ciao perché sono 16 minuti bene votate commentate e iscrivetevi ai nostri canali ovviamente ciao a tutti